Consob non li avete controllati, il decreto del governo ci ha rovinati, noi truffati, derubati, incazzati, rivolgiamo i nostri soldi. È il giorno della protesta davanti alla Consob nella sede di Roma da parte degli obbligazionisti subordinati e degli azionisti delle quattro banche salvate dal decreto. I loro risparmi sono stati azzerati lo scorso novembre. Il pullman a retino è partito dal parcheggio Sette Ponti, carico di rabbia e voglia di ottenere risultati concreti. Ma che mi aspetta, non lo so nemmeno io cosa ci si aspetta, ci si aspetta che siamo rotte, ma proprio rotte. Noi si vuole solo i nostri soldi, tutte queste parole ci stanno a umbriacare, non si capisce più niente. Un giorno dicono di un modo, un giorno di un altro, noi si vuole i nostri soldi e basta. E poi che vanno a quel paese tutti. Sicuramente sia Banca Italia, Consob, loro dovevano avere comunque un'attenzione, una vigilanza nei confronti anche di questi commissari che sono stati mandati nel periodo, in un periodo comunque già a priori, nel mentre che poi vendevano queste subordinate. Quindi in un certo senso c'è la responsabilità, è gioco forza. E almeno che si vergognino, ma che si vergognino tanto, che siano un briciolo di coscienza a mille miglia che la titanino fuori, che la facciano arrivare un po' più vicino. No, hanno salvato migliaia di posti di lavoro con quel decreto e noi si deve pagare i dipendenti che ci hanno truffato, con nostri soldi. Si paga i dipendenti che ci hanno truffato. Ma se ne diamo conto cosa vuol dire? Sì, poi scusi, hanno salvato i posti di lavoro, ma i posti di lavoro degli operai, quando mai sono preoccupati di salvarli? Gli operai un calcio nel sedere e a casa, arrangiatevi. Questi sono i cittadini serie A? A me mi aveva garantito, ma non al cento per cento, al mille per cento, che il capitale mi veniva rimborsato. E questa è una truffa bella e buona, perché se uno, io mi fido di un direttore, di una persona della banca, che mi la garantisce che il capitale alla scadenza ti viene rimborsato tutto, come fai? Ti fidi? A me mi ha distrutto la vita. Io mi sono sentita male, sono stata a pronto soccorso, ho avuto un malore. Sono cose che veramente ti cambiano la vita, ti distruggono la vita. In famiglia, in tutto, ci sono anche, oltre alla perdita dei soldi, c'è tutta una retroscena che ti cambia, ti distrugge la vita. A dei cittadini, a nessuno gli importa niente. Tutti fanno i suoi calcoli, pensano al suo articello e non pensano al cittadino, nessuno pensa al cittadino. Altri pullman sono partiti da Perugia, Gualdotadino, L'Aquila, Torre del Greco ed Empoli. L'unione ci spiega una signora, si spera che farà la forza. La signora l'abbiamo incontrata in fede del consumatore i primissimi giorni, se non sbaglio. Mi sembra che le lacrime lasciano spazio oggi di più alla rabbia, perché è giusto anche che avvenga così, o no? È vero, sì, mi ha visto nel primo momento proprio. Poi ci si riscatta, insomma, e vedendo che siamo in tanti, un po' di forza avviene e speriamo, insomma, di ottenere. Intanto il caso è approdato in Senato, con Feder Consumatori, presente nella giornata di ieri anche il presidente aretino Pietro Ferrari. Qualche apertura sulle plusvalenze potrebbe esserci, spiega dalle colonne virtuali di Arezzo Notizie. Le indicazioni avute fanno ben sperare. Complessivamente gli obbligazionisti subordinati hanno perduto 325 milioni, 200 li hanno persi gli azionisti. Certamente i 100 milioni messi a disposizione nel fondo di solidarietà non sono sufficienti. Contestiamo poi l'arbitrato, dice ancora Ferrari, vorremmo che sui risarcimenti ci fosse un contraddittorio, non un arbitrato che stabilisce le somme senza possibilità di replica.